Musica Noi siamo come sempre dalla parte dei cittadini in difesa dei cittadini perché questa questione dello Stato del Nuoto interessa a tutti è un diritto di tutti nel tempo libero partecipare e lo Stato del Nuoto rappresenta a Caserta un punto di riferimento per tutti noi cittadini quindi cerchiamo il nostro appello e una sinergia con tutte le forze politiche Città Futura si sta muovendo attivamente come sempre in tutte le questioni sociali e culturali io rappresento proprio in Città Futura il rapporto con la città per la cultura e per la scuola in questo caso per la cultura perché lo sport è cultura e quindi lo Stato del Nuoto che è un riferimento non deve essere chiuso deve essere attivo perché rappresenta un insieme di questioni sia dal punto di vista del lavoro, quindi il diritto al lavoro e sia per quanto riguarda i diversamente abili quindi che sappiamo bene lo Stato del Nuoto tutela Grazie a tutti